Pari al tardini tra Parma e Sampedoria. Dopo una prima frazione molto divertente, condita dal vantaggio blu cerchiato con Pedrola, bravo dopo un contropiede di Borini, a rientrare sul destro e a battere Chichizzola, nel secondo tempo i ritmi calano nettamente con i padroni di casa che evitano la sconfitta al minuto 82 con Ansaldi che calcia un cross preciso per la testa di Circati il quale conclude alla spalle del portiere Stankovic. Nel prossimo turno il Parma ospiterà il Bari, mentre la Sampedoria dovrà affrontare il Com. Grazie per la visione! Grazie per la visione!